Alzati. Dai, stavo facendo un gran bel sogno. Ehi, ehi, va bene, piano. Va bene, calmate. Magari potrei farmi una doccia. Callate. Giorno, ragazzi. Ah, è già sera. Non si capisce da qua giù. Oye, idiota! Sali le scale! Viene saliendo un prisionero. Abran la reja. Ehi, tanto piacere. Che umidità. Benvenuto a Padma. Ehi, gringo! Vi lo que hiciste a Gustavo. Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré cuando regreses. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. Muévanse. Quítense, cabrones. Ehi, ehi. Tranquilízate. Isto hai dei amiratori. Ja, un pubblico adorante. Bye. Abre la reja. Aonde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Io farlo un po' di spagnolo, sai? Aspetta, cosa hai detto? Lo scoprirai molto presto. Te lo advertì. Però non ho scuchaste. Ache? A que está mirando? Nada, amigo. Mientra. A este me encargo yo. Dove mi stai portando? Lo vedrai Por favor, para, para No, no Va bene Lo potete Comincio vagamente a insospettirmi Sai, questo non sembra affatto l'ufficio del direttore A sinistra A sinistra Che hai ricevuto? Di qua E dentro? Siamo arrivati Bene Ok, mi toglieresti le manette? Voglio una fetta Fetta? Qualunque cosa speri di trovare ne voglio un po' No Vargas, l'accordo era che ci avresti fatto entrare, uscire e basta E basta? Sto rischiando le chiappe per voi gringos Sì, Rafe ti paga un mucchio di soldi per il disturbo Sì Ma non abbastanza Ti hanno detto di non aprirla E mi hanno anche detto di non accettare mazzette O portare qui gente O anche picchiare i detenuti Ma eccoci qui D'accordo, ma stai attento A 300 anni Era un membro della ciurma del capitano Henry Avery Tu sai chi è? Era un pirata Il pirata che ha fatto il più grande colpo della storia E l'ha fatta franca Era su un libro Bravo Più di 400 milioni di dollari in oro e gioielli Tutti su una singola nave La Gunsway Sì Conosco già la storia Puoi arrivare al punto? Ah ah Sono rinchiuso nella cella più alta della prigione spagnola Ah ecco Spero che un giorno tu possa riuscire a entrare in questo luogo infernale Portare la mia croce e scoprire le ricchezze del paradiso Quindi? Cosa vuoi? Le ricchezze del paradiso Oh santo È una metafora No 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 Tu e gli altri non avete pagato per entrare in quel luogo infernale Solo per una metafora Voglio una fetta Ok Facciamo così Tu mi lasci salire e controllare la cella E se dopo 300 anni è rimasto qualcosa Puoi fare un accordo con Rafe Ora potresti La lettera? Por favor E come pensi di arrivarci? Scalando O forse preferisci farlo tu Visto che vuoi una fetta Cerca di non crepare Sì Questo è il piano Hai portato ciò che ti ho chiesto? Sì L'ho nascosta laggiù sotto al tavolo da lavoro Vicino alle casse Ottimo, grazie Ecco, una passeggiata Bingo Comincia la festa Fica Un'altra Fica 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 Cosa Fica Dovrebbe fare il caso mio Ecco la cella Come arrivo lassù? Si parte! Si parte! Un pollo Tu viennes Un pollo Un pollo Un pollo Un pollo Un pollo Il show forse posso scivolare giù da lì non vedo l'ora di raccontarlo a Sam sempre più in alto a Sam ok devo trovare la cella più alta oh merda è incredibile ma qui c'erano molti pirati che finivano sulla forca ok e adesso continua a salire io che mi lamentavo delle prigioni moderne non vedo l'ora di è incredibile che questo posto stia ancora su gli spagnoli la sanno lunga il fatto di prigioni chissà quanti pirati sono morti qui ok diciamoci la verità mi diverto da matti Sam cosa ti stai perdendo ci siamo ci siamo la cella di Burns cella sembra più una suite ok ok da dove iniziamo questi graffi e scarabocchi avranno un significato il sole e la luna il sole e la luna simboli alchemici di oro e argento un attimo ricordo qualcosa di simile sulla lettera fa parte del simbolo ecco l'altra metà dunque ora ci siamo ok ok un simbolo dello zodiaco il sagittario il segno dello scorpione il segno di Non è questo. Dieci numeri romani. Niente. Che diceva la lettera? E due in numeri romani. No. Dov'è il simbolo del sagittario? Sagittario e dieci numeri romani. Non. Dov'è il senso? Non. Grazie a tutti. 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 E dieci numeri romani. Grazie a tutti. Dieci e due. X e ii. Guarda cosa abbiamo qui. Digno factis recibimos. Direi che è fatta. Va bene. Ora di tornare. Forza! Lo scalino è una trappola. Scendiamo. 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 E adesso? Scendiamo. 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 E addio a spalla. E addio a spalla. Lì c'è Vargas. Beh ci sto. Voglio una fetta. scendiamo. Te la do io. Te la do io. scendiamo? So. Scendiamo. Come? Ce l'hai fatta Che hai trovato? Drake Allora? Questo è stato ripulito Se l'asso c'era nascosto un indizio, io non l'ho trovato E' sicuro? Hai cercato nel punto giusto? Beh, deve essermi sfuggito qualcosa nella lettera Forse c'era un'altra torre che è crollata secoli fa Hai una mappa di questo posto? Hai una piantina? Può darsi, c'è una pila di vecchi documenti Ok, bene, bene Tu dagli un'occhiata, vedi che cosa trovi Intanto io ne parlo con Sam È l'esperto di Eberi Forse può trovare un senso a questa storia Ok, sì, guarderò tra le case Girati Sì, sì Bene Quando gli avrei parlato, torna da me D'accordo Vai Gringo, se ti becco ancora a fare appugni Vai nella buca una settimana Grande pavadatura, Vargasan Quasi quanto la mia Te posso dire, eh? Suerte di principiante, vero? Hijo di p*** Lo siento, chicos Tengo che irmi Claro, te vas quando stai ganando Para ti Ehi, ti hanno conciato per le feste Stai bene? Sì Niente a cui non si è abituato Andiamo Oh, 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 oh Vorrei tenermi sulle spine, vero? Avevi ragione No, avevamo ragione Non resta che cercare Raif Non ricominciare, ti prego Andiamo L'hai detto anche tu Noi l'abbiamo fatto Tu e io E adesso quel riccone di merda vuole unirsi Da quanto ci provavamo, eh? Avevamo qualche pista Non è vero, ok? Neanche una Che ti piaccia o no? Senza Raif e senza Vargas Non saremo ingiati Già, riguardo a Vargas c'è un problema Che tipo di problema? Ti ha fatto entrare nella prigione? Sì, sì, l'ha fatto Bene Dopo che ha letto la lettera Oh E cosa ha scoperto? Che ne vuole una fetta Merda Raif, se qualcun altro scopre questa storia No, no, sistemo tutto io con Vargas, tranquillo Ora ci sono cose più importanti a cui pensare D'accordo Cerchiamo un posto un po' più appartato Sì Bene, qui è tutto tranquillo Ok, allora, cosa abbiamo? Oh, merda Ehi Posso? Stai attento, ok? Legno con intarsi di oro e argento E ben fatto Dentro il cavo Perché un uomo di Everi dovrebbe perdere tempo a nascondere un banale crocifisso? Non è un crocifisso Tecnicamente un crocifisso rappresenta Gesù Questo non è Gesù È vero, manca la corona di spine ed è legato alla croce Ma se non è Gesù, allora... Leggi l'escrizione Digna factis rechipimus Riceviamo... Riceviamo... Riceviamo il giusto per le nostre azioni Esatto Mi stupisci L'orfanotrofio cattolico ha i suoi vantaggi È santisma Sì, il ladro pentito Ma non vedo il nesso Ragazzi, facciamo finta che io non sia mai stato a catechismo Ok, durante la crocifissione Gesù venne messo tra i due ladroni Ok Il primo prese in giro Gesù Il secondo, questo qui Lui si pentì E accettò il suo castigo serenamente E Gesù lo condusse in paradiso Il ladro pentito Sì Che c'è? Oh, hai capito? Esiste una cattedrale di Sandism in Scozia L'ultimo avvistamento di Everiffo in Scozia? Non può essere una coincidenza No Sapete, avevo dei dubbi su voi due Ma... Cerchiamo Vargas Dobbiamo andarcene Fammi indovinare È il tipo con cui hai fatto appugni? Eh... Non sapevo avesse tanti amici Le dici che non abbiamo terminato Mira, già non sganaste, ok? Molto tardi per parlare Chi non sale? Senti, lo sai Tu non ti metti Ok Ok Ti ho sentito farti amare Per risparmiare il desperdo Non usata Non ci metta Non ci metti Non ci metti Chi non bemmeno Un po' Il rosa Non ci metti Non i Vieni a questi pendejos! Vieni a tutti! L'ora di andare, grigio! Sam! Si serve una mano! L'estolite! Ehi, ehi, lascia a me! Espera! Ya basta de hablar. ¿Quién más necesita que les recuerde las reglas? ¡Alignense! ¿Qué es esto? Eh? Dame. Contrabbandi de la merce. ¡Cállate! ¿Qué crees de ser? ¡Lévalos a su salda! ¡Metré los gringos en mi oficina! ¡Tú! ¡Déjanos! ¡Déjanos! Ce ne hai messo di tempo, ci stavano facendo secchi. Lo faccio io. Vargas, andiamo. Oh, non ho trovato niente. Sarai in un'altra torre. Beh? Ehi, ho un'educazione cattolica. Ne ho sempre una. Non rito. Ehi, 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 senti. Non vale nulla, ok? Ti sembro un idiota? Ok, vuoi rinegoziare? Bene, smettila di fare il teppista troglodita. Metti via la pistola. Grazie. Siamo disposti a darti... ...el 10%. Il 50. Il grosso del lavoro è nostro, 20. E non lo troverai senza di noi. 25. Alla pari. 25. Vi sembra equo? Me ne farò una ragione. Sì, certo. 300 milioni si dividono meglio in quattro. Allora siamo d'accordo. Sì, siamo d'accordo. E se dovessimo rincontrarci? Cazzo. Risolta. Ti ha dato di volta il cervello. Puoi forse scoprirlo? Abrani! Che stiamo facendo? Ci atteniamo al piano. Questo era parte del piano. Voi seguitemi. Dai. Dai! Validazione. Ray, dove stiamo andando? Al farne. Barker s'ha detto che la barca è orseggiata sotto il fratto. Ma da che parte? Non lo so. Una volta usciti, lo scoprirò. Ehm... La finestra! Nathan, aiutami! Presto! Ray, come ha fatto? Spotta! Andiamo! Scelta! Vedo il farne. Est Pasteur! Guardare che la torta! È il corporations Ero reversione! Der la Guardare che la part... Get Better! Non, non, non! Ne Justина! Ehi, dai, dai, dai! Qualcuno non si apre! Un'altra piccola gente! Fammi salire! Andiamo, Sam! Pronto? Eh! Andiamo! Sì, dopo di te! Dai, sei sicuro? E' arrivato! Merda! Anche questa! Ok! Vale a culo! Grazie! Dali una paliza, tutti idiotas! Siamo la ferita! Oh! 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 Sì! Oh! 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 Forza! E non far cadere la sua! Dai! Alla parete! Ora! Ci sono! Forza! Ti prendo io! Si stengono! Andiamo! Sam, no! Dai! No, resisti! Resisti! Sam! Dammi l'altra mano! Forza, l'altra mano! No! Sam! Dobbiamo muoverci! No, è ancora lì sotto! No, è spacciato! Forza, la barca è oltre quel muro! No! Non posso! Non posso lasciarlo qui! Nate, tuo fratello è morto! Vieni con me o morirai anche tu! No! Sam! Come ti fai? Sam! Oddio, no! 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 Oddio, no! 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 Fun! No! Arriva! Arriva, arriva! Oh, oh, oh. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.